Anche se arriviamo molto rimaneggiati, andremo in campo sicuramente per fare una buona partita anche se giochiamo con la Roma che è stata protagonista di un campionato eccezionale però speriamo sia una bella chiusura. In altri tempi avrebbe probabilmente vinto il campionato, solamente una Juventus da oltre 100 punti poteva impedirglielo. Se c'è una situazione di Milanetto va chiarita, se c'è una situazione di direttore sportivo va chiarita, se c'è una situazione o altri tipi di ruoli vanno chiariti perché poi c'è da lavorare e poi bisogna possibilmente lavorare con, non dico col consenso di tutti perché questo non si potrà mai avere ma perlomeno non con dei pretesti da dover buttare sempre addosso alla squadra o a dei giocatori questo è stato preso da uno, questo è preso dall'altro, poi fischi, massacri, i muguni ci stanno e ci sono sempre stati c'è stato qualche cosa di più, non va bene dire che è stato uno schifo di campionato se no qualcuno o ha la memoria corta o racconta delle balle.